un saluto a tutti voi e benvenuti a questa nuova avventura con il mitico turbostar di ralph garage quest'oggi andremo partiremo dalla città di varsavia e raggiungeremo la città di bratislava trasporteremo potassio quindi un materiale altamente corrosivo quindi bisognerà essere molto molti molto molto attenti durante questo trasporto perché non sarà appunto un trasporto semplice e quindi come al solito bisognerà prestare molta attenzione hi everyone welcome to the stream today we will do our our trip we will start from varsavia and the city of destination is a bratislava today we will transport some potassium so is a material very highly corrosive and we will do a clean a clean trip and must be very very careful fabrizio davuno sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti grazie mille ben arrivati a tutti ciao matti z buonasera anche a te barb bianca carissimo ben ritrovato ben ritrovato anche a te marti z grazie per essere passati in live e stavo spiegando insomma che quest'oggi sarà non facile il nostro trasporto eccezionale infatti trasporteremo potassio ecco che non è quella sostanza che noi assumiamo per stare meglio ma è un componente chimico quindi 1rgk 539 sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti grazie mille a tutti e ben ritrovati e dicevo che questa volta ci sarà veramente da 08 sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti e dottor ferbus buonasera ben ritrovato e grazie per l'hosting e quindi dicevo che praticamente fabrizio davuno ha effettuato un ride uno raiders entrati nello stream benvenuti grazie mille a tutti sempre precisi e pronti per fabrizio da 2 sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti grazie mille benvenuti a tutti grazie ancora per essere accorsi e quindi dicevo che la trasferta il viaggio sarà di circa 600 chilometri ma bisognerà prestare molta attenzione il bus 08 sta ospitando la diretta un defined ospiti entrati nella diretta benvenuti ferbus 0 ho appena brindato con 25 bits grazie mille cir25 grazie mille presidente e quindi adesso tocca fare questa questa maratona questa grande trasferta come si dice in gergo e allora mio direi che quasi quasi diamo un'occhiata rgk 539 ha effettuato un ride uno raiders entrati nello stream benvenuti grazie mille a tutti benvenuti e grazie ancora a tutti a figura di ferbus tu lo sai quando una persona merita quando è meritevole io tranquillamente tutto è pronto possiamo metto a disposizione allora checklist allora la delorean c'è ancora il nostro bel bellissimo grazie mille a tutti benvenuti grazie mille a tutti benvenuti grazie mille a tutti benvenuti benvenuti grazie mille a tutti benvenuti grazie per aver guardato qui ora siamo pronti per cominciare so please friends if you would support my friends channel so please take a follow it's free for ferbus zero it matti zeta and barbabianca 993 39 mi raccomando sostenete gli amici streamer allora ragazzi detto questo che dite partiamo io direi proprio di sì allora intanto vediamo un po se c'è da esplorare qualcosa vabbè magari dopo facciamo il carico prima e poi dopo il bus 08 sta ospitando la diretta and defined ospiti entrati nella diretta benvenuti fergus 08 appena brindato con 10 bits grazie mille 10 quello tu alla salute non profittiamo qua ok perfetto adesso cominciamo la nostra sfida e che dovrei avere il carico qua ottimo forza horizon bello complicato allora vediamo un po io direi di prendere un crone ma io ho il ho il camion rosso quindi prenderò questo rosso ovviamente per gli amici che guarderanno questo video su youtube il link in descrizione troveranno il link dei canali amici e dove poter scaricare la mod base e del del turbo star direttamente dal sito internet di ralph garage for who is work watching this video on youtube here below you will find any links for the download downloading downloading the base the base mod of this turbo star by ralph garage and the friends links so please take a follow to them channel and it's free please support with a like my friends channel ok fatta anche un po di un po di spot pubblicitari allora vediamo un attimo la mappa perché ho un punto da esplorare ed è questo qua quindi eh sì perché qui dovrebbe esserci un centro d'impiego mentre qui un altro un altro garage quindi garage un altro concessionario quindi è conveniente che sarebbe utile sarebbe utile e sarebbe utile direi di esplorare si fermbus mettiamoci al lavoro soprattutto con l'autobus con i freni che era un po problematica farlo partire in maniera molto tranquilla a farlo frenare l'utilizzo del freno a mano quelle è una vecchia storia ma funziona sempre per la si avvoltare si o spagnare sta rischiamo di marcarlo ferbus non so se tu conosci anche l'amico barba bianca e anche lui è un appassionato di euro track poi porta anche altri giochi insomma un po come te e anche lui è toscano a posto io qua faccio faccio pure queste caffè vedi è tutto quando è una cosa che non è prevista mi piace come dire dare una mano agli amici streamer e quindi a volte faccio anche delle magari mi è stato presentato da uno di voi e quando gli vado a dire guarda ti presento questa amica dice no veramente io lo conosco già 08 sta ospitando la diretta ande fin d'ospiti entrati nella diretta benvenuti fermbus 08 ha appena brindato con due bits grazie mille c2 qui detto grazie grazie per i bitteri qua forza orison forza orison sì sì ora focalizzato la mitica i500 però quella il modello quelli vecchio teneva la strada proprio che era qualcosa di incredibile ed era anche molto veloce aveva anche un'ottima coppia ottimo però non spoilerare altrimenti poi amici insomma ragazzi mi raccomando se potete date una mano agli amici qua ferbus a barba bianca a matti z un bel follo non costa nulla so please support my friends channel fermus 08 barba bianca 9 3 3 9 and matti z supporting streamer is free e la settimana inizia sempre con il turbo star by ralph garage non so voi ma se potessi portare sempre solo il mitico turbo star anche in multiplayer ovunque questo qui soprattutto di ralph garage è fatto veramente come si dice a napoli a mastir è fatto veramente bene curato nei minimi dettagli preciso che ralph garage non mi paga per fare questo ma mi sembra giusto elogiare modder italiani così come ho fatto anche per le mod del turbo star su farming e ho deciso poi di acquistare le mod a pagamento pagata circa 5 euro dove mi ha dato il motore le marmitte come dice l'amico barba bianca marmitte aperte cerchi e il suono quindi in questo live i bought with 5 euro the mod of 640 horsepower engine external pipe externa con american style con american style the engine sound and and the wheel cover 5 euros but they have done a great work ragazzi mi raccomando sosteniamo i modder italiani quando possiamo sosteniamo che ci permette di poter vivere in maniera virtuale i nostri mezzi ai 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 chat ma a voi quanto vi garba il turbo star? come ti piace i veicoli turbo star? per chi guarda questo video su youtube un bel pollicione in su commentate se anche a voi piace questo camion questo signor camion italiano turbo star lasciate un commento un commento un commento che in Portrait Route adesso andiamo avanti con un po di soft gaming buonasera buonanotte a chi in questo momento sta guardando il video in replica sul canale twitch buonanotte e buonanotte se avete guardato questo video in replica sul canale ma quanto mi garba come dicono gli amici della Toscana che saluto tutta la Toscana una terra meravigliosa terra meravigliosa e persone meravigliose la Toscana la Toscana la Toscana la Toscana la Toscana a tardi oh la la tutto retarder e freno ammature, retarder ho solo usato il ritardo e la 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 no pedal brake ma il gasolio è nel dubbio io Ah non è... Andiamo un po' a livello, ok c'è. I have got enough gas for going on and reach the... Destination City Un saluto a tutti... Un saluto a tutti gli amici autotrasportatori. Hello, I would say hello to all truckers. My utmost respect. Ma allora anche tu sei appassionato di camion qua? Tutto bene. Questo turbostar da soddisfazioni. Mantiene la velocità più o meno costante. I consumi sono regolari. Sono in single player qui. Quindi... Peccato non poterlo portare in multiplayer però... Oramai... Anzi... L'appuntamento del martedì è quello... Insomma... Che... Solitamente... È uno dei... Moventi più attesi... Ma... Diciamo così. Sì... E forse perché il turbostar... Per noi è un po'... Un po' un'icona... Un po' un'icona... Eh sì... Euro zero... Questo è vero... Però non so se... Fosti... Fosti tu... O un altro amico... Durante un'altra live... Si parlava appunto dei... Dei motori... I motori di prima... Quindi di una volta... I motori di oggi... E si diceva... Che... Si... I motori... Eh... Sono... Ed erano... Anzi... Qua si metta la... Qua... È vero che i motori di una volta erano più grezzi... Diciamo così... Erano meno... Fatti meno di elettronica... Però... Erano quelli lì che... Se si fermavano... Tu potevi... Far ripartire... Meccanicamente... Un po' come... La pompa manuale... Quando si rimaneva secco... Di gasolio... Insomma... Poi tutta l'elettronica... Può aiutare... Aiuta sicuramente... Ma... Diciamo che... Non è proprio... Il massimo... Io direi di approfittare... Ma... Diciamo che... L'elettronica aiuta... Sicuramente... Resta il fatto che però... Il troppo storpia... Una volta c'erano anche... Gli acceleratori... Col filo... Che arrivavano sul carburatore... Mentre invece oggi... Sono dei sensori che ricevono... Un segnale elettrico... E... E... Poi... Regolano... La carburazione... Una volta c'era il vecchio... Carburatore... Oggi con l'iniezione elettronica... Insomma... Ehm... Il discorso è cambiato... Diciamo che... Le auto... E i mezzi in generale... Con il motore ad aspirazione... Erano... Molto più... Ehm... Performanti... Ehm... Avevano un'accelerazione... Avevano un'accelerazione... Più brusca... Mentre invece... Ehm... Quelli... Diciamo così... Più elettronici... Sono reattivi anche quelli... Ma... Forse meno reattivi... Rispetto al filo... Anche perché c'è una... Una frazione di secondo... Che passa... Dalla... Dalla pressione del pedale... Dell'acceleratore... Fino a... Quando poi... Arriva l'impulso... Al sensore... E inizia... La corsa... E' impercettibile... Ma io ricordo... Nei bei tempi... Quando... Si... Doveva stare... Pardon... Scusa... Si doveva stare... Attenti... Al filo dell'acceleratore... Che si spezzava... Lì... Lì erano dolori... I was talking about... The throttle... The accelerator... On the old... Cars and trucks... Was... Was with wire... Not with... Electronical signals... Now it's all... Electronics... So... If you... Broke a sensor... You have to... To... To pry... For... Coming back home... E dicevo che comunque... Si... I mezzi vecchi... Insomma... L'acceleratore a filo... Bene o male... Se si era fortunati... Si poteva... Rimediare un accrocco... Per arrivare... A destinazione... E comunque... Questa mod... E' molto molto... Bella... Di dettagli... Tenersi a destra... E poi... Uscire a destra... Ok... Usciamo a destra... Uscire a destra... Ok... Buon rientro a casa... Mi raccomando... Non ti distrarre con il cellulare... Eh... Poi quando arrivi a casa... Con calma... Se sto online... I ripassi... Altrimenti... Passo io più tardi... A buono direttore... Grazie ancora... Per essere passati in live... Grazie per i bit de rozzi... E poi... Vengo a rilassarmi un po'... A farti un po' di compagnia... Nella mitica live... Il turbo star va... Senza catini... Ah... Eh vabbè... Allora... Riposa di voi... Dai... L'importante è che... La fai quando... Sei in condizioni... Ottimali... Ecco... Anche perché... Fare una live... Non è solo... Giocare... Ma... Diciamo così... Ma anche... Prestare attenzione... A che... Insomma... Non ci siano... Problemi tecnici... E quindi... Qualora ci dovesse essere... Un problema tecnico... Cercare di... Eh... Andare a... Risolverlo... E quindi... È doppia fatica... Fernbus dottore... Buon rientro a casa... Campa... Campa... Precco... 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 Mi sa che siamo quasi arrivati... Ciao... Fernbus... Alla prossima... Grazie ancora per essere passato... No... Qui nel canale... È un onore... Riceverete... Tutti coloro... Che passano... Nel canale... For me... È un onore... In un onore... To... To... Receive... Your hello... During my... Live streaming... Everyone... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Direi che siamo a buon punto qua... Dovremmo essere quasi a metà strada... Quanta... Quanta strada rimane... Ops... 250 km... Ok... Siamo quasi arrivati... Ho un elicottero... Mi sembra di vedere... Non sbaglio... O... Ho un... HeANGLE PARTSSE GACCHI BIASH... Now to track... The music... That... I love so much... Ho un... Ho un... Ho un... Ho un... Ho un... Andate. Wherever you are, I believe that the heart will go on. I drive the three wheels. Portrait rotor apiage. Speed limit should be... Ninety... Kilometers per hour. Scoop... It's a little bit hard... Making some aerials... Shoots. E' abbastanza difficile fare delle riprese aeree. Po... Po... Oh Oh Drive That tree Wheel Oh Three Rappiange Mescente 4 A mattina E coquebot Pure 4 e 10 Balto Morsk Dimmi che non devo girare la testa, non devo uscire Ok Right On time I think left side To the right side Of the road L Man Cute Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non importa, troverò un nuovo percorso. La strada principale l'hanno esplorato. La rue principale. Pardonnez-moi... Ami français, je suis désolé, mais il y a longtemps que je ne parle pas en français. Aller tout droit. Cette mode, c'est de Ralph Garage 84. Pour vous qui regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous allez trouver tous les liens en description. Pour télécharger la mode base de l'hébiculture Brosta. Vous trouverez aussi les liens au site internet et à la page de Facebook de Ralph84 Garage. C'est parti. 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 Tabaja Domizia avevi un nome semplice il tuo nome era Patrizia Patrizia tenersi a sinistra e dare a sinistra ok Bratislava siamo arrivati a sinistra questa è la prossima destinazione grazie grazie per avermi fatto passata grazie sono molto gentili tenersi a destra e poi voltare a destra abbiamo fatto direi vediamo un po' se siamo arrivati in ritardo pare che al momento poi voltare a sinistra e dico pare che il lavoro sia stato fatto recentemente credo che il lavoro ha fatto abbiamo fatto un buon lavoro ora abbiamo abbiamo fatto la domanda se è giusto o giusto vero o vero vero abbiamo abbiamo finito abbiamo 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 per il corpo è una substanza chimica su 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 allora allora molto bene anche questo il nostro viaggio è andato a buon fine finalmente è un viaggio in perfetto orario e senza alcun incidente quindi finalmente il lavoro è fatto molto bene non il mage non il ritardo siamo in tempo questa è la prima volta credo bene bene non siamo arrivati alla prossima quindi grazie per aver guardato questo video se stai guardando questo video se stai guardando questo video ah siamo arrivati alla alla lingua italiana finalmente abbiamo concluso questo viaggio tutto bene grazie grazie a tutti che stai guardando ciao 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 ciao